Twitter. Carissime famiglie, come promesso abbiamo organizzato per mercoledì 22 marzo una via crucis condotta in diretta dai bambini nella cappella di Radio Maria, sede di Erba, Como. Possono partecipare le famiglie dei dintorni di Erba coi loro bambini, venendo proprio nella sede di Radio Maria verso le 14.10. I giovani dell'accoglienza vi accompagneranno ed assisteranno in cappella. I bambini potranno unirsi al gruppo già presente per condurre le varie stazioni. Il tutto partirà con una breve processione all'interno della cappella, dalla statua della Madonna alle varie stazioni della via crucis lungo la cappella per raggiungere poi il crocifisso. Vi aspettiamo!